Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Sì, and we can get more hours if you guys use the link for HelloFresh. I'm sorry. The bad guy challenge. We just got here. Wait. Wait, no, he's moving the cameras. I think we need to fix the next done. Oh, damn. I'm scared. Uh-oh. He's turning off all the cameras. Hi, hello! Hey! I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. It won't be too far. It won't be too far. It won't be too far. 24-58. It doesn't end up. Ahhhh Dommage J'ai choc'le un po' J'ai choc'le lì, c'était trop stressé Yeah! Yeah! Oh my god, it's loud Ok, and then the classic Love some moves at the end Hi, suuこと de Today we're gonna go April, April New year Last year JK, JD, dan Today we're gonna go to J.K., JD J.K.J.D. The new people have the house For some 40 years I'll sleep... That's so cute If we already gone, we're not ready Of course It's not that far Sì, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Sì, il giorno è un giorno, e il giorno è un giorno, almeno lo stesso non hai ci sono i tuoi Dio di April ci sono i tuoi Tullo di jure poi a te ho frappato Sì a te lo stesso 3 il , 6 è come seeds sono che sono . Prendsci 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 C'è un PB Ma Il ha un ptet goût made C'est un PB J'ai fatto il Saf 29 Ma ha questo come è il Savo gia una mantine Ma ha il ha questo che è un 25 Tu vasi Heo Ok, gotti è quello che ti chiede è quello che ti chiede che cojones che cojones estás bien? chi è? cintia 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 si si cintia They have snow outfits What the fuck That's cool Okay they have axes though I know Can you get them over here To kill the banner guy Oh shit Ma non Ma non Ma non Ma non Je n'y'i croyo Ma non Non hedge tu al questo è che in trucco è che in trucco aqui in trucco che la settimana lo faccio tutto anche. Quedo quarto in la prova e ancora così mi nominano con 12% più. Tio, ho fatto più che Sekian, ho fatto più che Eric, ho fatto più che gente, tio. No entiendo, tio. Que digan che i voti contano un 40% e già sta. Es che già sta. Que digan che vale 40% i voti, tio, perché mi pongo a farmear voti, tio. Es che no tiene sentido. Ho fatto un Signy, ho fatto un puto legendario. Lo ho fatto tutto, tio. Ho fatto il top 8 oggi, più o meno, tio. Non ho, non ho, non ho capta idea, tio. Perché non puoi andare in, sarebbe molto più facile a te matar. Suono come un uomo serial killer. Man, sono qui per te matar, ma se puoi andare in, sarebbe molto più facile. That's so morbid. That's the worst thing I've ever said. Oh gosh. That's the worst thing you've ever heard me say. To,いうことで, どうも,皆さん, こんばんは, ラザオでーす. It's the worst thing you've ever heard me say. So you have to tell me how hard I have to be. Stop it. Do you have to tell me how hard I have to be. Grazie a tutti.